buonasera ragazzi allora rilassiamoci un po sta per iniziare la partita della nazionale della quale frega fino a una certa allora parliamo di qualche successo oggi ieri partiamo da giraudo la notizia del difetto di giurisdizione c'è vada dire la palla passerà un tribunale ordinario non si sa se il consiglio di stato o secondo me probabilmente un tribunale ordinario dove lui già c'era stato giraudo ha in mano la chiaramente la carta della sentenza della corte di giustizia europea il solito decidere di non decidere lavarsi le mani guadagnare tempo evitare casini ennesima conferma che in italia purtroppo molta parte di quel che decide la cosiddetta giustizia italiana visti anche lì visto anche quanto uscito da perugia visto anche il caso palamara di qualche anno fa è assimilabile la carta da culo come ho sempre detto io purtroppo loro fanno piovere medicare interpretano la legge per gli amici la applicano cavillando su qualunque cosa per i nemici purtroppo è così è inutile che mi stia di nuovo a spiegare naturalmente la nostra società già ha già ritirato tutto il ritirabile lo schifo che mi viene lo schifo che mi risale dallo stomaco per il comportamento di questa società non ha fine guardate mi sta davvero passando la voglia di seguire questa squadra poi lo so lo dico e non lo faccio ma davvero poi da quando Elkan ci ha messo Yogi e Bubu a capo della società figuriamoci l'altro ieri l'avete capito no adesso ve l'ha detto anche lui adesso ve l'ha detto anche anche lui che per tre anni niente non si vince nulla nulla non si vince perché non devi vincere è stato deciso così nel nome del bilancio niente cara Juve sei un cagno sei il cagnolino di Elkan devi accontentarti dei croccantini Andrea voleva far farti partecipare ai concorsi di bellezza leggi champions poi un bel giorno basta limitatevi a dare i croccantini tu non volevi limitarti e ti ha tolto il cane semplice e ti ha licenziato da dog sitter ti ha tolto la qualifica di dog sitter che desolazione ragazzi che desolazione poi mi tocca leggere le notizie di mercato che sono di un patetico ragazzi veramente roba che più patetica non potrebbe essere ma tanto i tifosi giuventini sono tutti concentrati in un unico tema tema dal quale tornerò a parlare perché rivendico a gran voce la mia libertà di farlo mi sono reso conto che non devo aver paura dei mentecatti che vengono a commentare a cazzo mi basta cancellarli e basta queste sono le mie idee se vi stanno bene vi stanno bene se non vi stanno bene tela, aria, show, via rassegnatevi io sono convinto che Moncalvo sta preparando qualche altro libro di cui ho visto Moncalvo di cui ho visto che è intervenuto su un canale che seguo sempre illuminante Moncalvo e anche lui contro Allegri però io non lo ascolto per questioni tecniche che lo ascolto per altre questioni illuminanti direi illuminanti direi che dire viene un incazzo che la metà basta mi viene solo a pensare i credite li ho talmente sul cazzo questi qua quello che le sentenze di rispetto si rispettano poi l'abbiamo visto quali sentenze ci tocca rispettare lo abbiamo visto lo abbiamo visto allo schifo che stanno insabbiando un po' tutti stanno insabbiando un po' tutti evidentemente si è accontentato il centro-destra che veniva spiato chiudiamola qui non facciamo più i cattivi d'ora in poi qualcosa è cambiato in effetti almeno dal livello politico qualcosa è cambiato se non altro c'è un po' più di equilibrio rispetto a prima evidentemente la signora Meloni sa come muoversi nelle segrete stanze è già già un qualcosa che ha riequilibrato molto parzialmente lo scandaloso atteggiamento della giustizia nei confronti della politica sullo sport io oramai ci ho perso le speranze ma ci è sufficiente guardare il calvario di Alex Fazer ci è stato sufficiente poi tra l'altro Pogba ha scritto un tweet un po' su Instagram un po' particolare perché io non penso che il ragazzo si arrenda ma prima o poi lo schifo verrà scoperchiato la cosa che mi girano i coglioni è che non sarà la Juventus a scoperchiarlo perché questo ha patteggiato tutto il patteggiabile non mi sto a ripetere perché mi viene lo schifo a pensarci lo schifo e quelli pensano ad Allegri ma mamma mia Allegri è l'ultimo dei problemi della Juventus è l'ultimo dei problemi della Juventus è l'ultimo dei problemi della Juventus Allegri guardate io Allegri sarei stato contro di lui in una Juve normale sarei stato contro di lui vi dirò di più dopo Monza Maccabi Haifa se si fosse cambiato non avrei avuto nulla da dire mi sarebbe dispiaciuto perché non era il vero colpevole non era tutta sua qualche bastardo gli stava voltando le spalle più di qualcuno qualcuno si era venuto a riposare a Torino ora questi ragazzi bene o male si impegnano pure ai loro limiti l'anno scorso c'era più di un Lazzarone in quello spogliatoio in genere finisce col pagare col cambio dall'allenatore e da che mondo è mondo ma io sono stato fra i suoi più strenui difensori per il semplice soprattutto dopo la penalizzazione perché lui non sta vivendo un periodo normale la Juventus questo non è un periodo normale e ve lo stanno facendo capire in tutti i modi questo secondo me tacitamente si è preso l'impegno a stare alla finestra per un tot di anni e questa cosa a me veramente fa girare i coglioni questa cosa veramente a me fa girare i coglioni che voi non immaginate parliamo di mercato altrimenti scade i semi nelle stesse cose davvero sono veramente schifato da questa situazione schifato schifato gli hanno messo le ganasce alla Juventus gli hanno messo le ganasce come furono messe alla Ferrari nel 2020 le ganasce e oramai non penso di essere il solo a pensarla così perché fior di giornalisti opinionisti inizia la mezza bocca ad ammetterlo fior di giornalisti opinionisti inizia la mezza bocca ad ammetterlo e poi dobbiamo e poi dobbiamo vederci certa gente certi giornalisti guarda a caso tutti i cacciati chi da Medias chi da Sky atteggiarsi a me tra pansè del bel gioco di sto cazzo l'ultimo Bargigia perché non schiera il tridente perché non lo chiedi a Inzaghi perché non schiera il tridente tu sei interista giusto Bargigia perché non lo chiedi a Simone Inzaghi perché non gioca col tridente ti piace il tridente perché non lo chiedi a Simone Inzaghi eh ah Dio santo e poi veniamo alle voci di mercato guardate io quando mi sono riabbonato a Dazzon che c'era l'opzione per abbonarti a uno dei storici quotidiani sportivi ho scelto il corriere non perché mi sia simpatico Zazzaroni ma perché fa la gazzetta e il patetico tutto sport io voglio bene a Guido Vaciago ma leggere certi titoli francamente fa cascare i coglioni tesoretto da dove prendiamo i soldi il bilancio cioè noi dobbiamo ci manca soltanto che dobbiamo scendere a fare i caroselli in piazza per i bilanci ci manca ci manca quello veniamo e poi parliamo di Copminers costa molto probabilmente non viene alla Juve e francamente cosa ci viene a fare per me non serve questo alla Juve alla Juve serve gente che sa giocare a calcio serve gente che sa trattare il pallone un centrale e un centrocampista serve uno che sappia giocare con la palla gli inserimenti gente di inserimento già ce l'abbiamo McKennie Miretti e poi tutti questi che vanno via dall'Atalanta non è che abbiano fatto sfracelli da dopo e Gosens Papu Gomez Muriel non se ne sente più parlare di Muriel chissà che fine ha fatto gli unici che bene o male hanno una carriera dignitosa sono Malcini e Cristante che sono a Roma gli unici un po' Zapata al Torino ma Zapata è bravo Zapata è bravo a me è sempre piaciuto come calciatore Zapata sin da quando era al Napoli che a Uniemma lo chiamava Omanmon mi è sempre piaciuto quel calciatore e poi mamma che maglia di merda abbiamo oggi mamma mia ragazzi due giocatori e bisogna rifare le fasce poi volevano secondo loro dovremmo dar via sule per prendere il coppine ma voi siete scemi ma voi siete scemi nel cervello o cosa la Juve necessita in primis di rifare le fasce tutte che è tolto cambiaso è un disastro le fasce della Juve sono un disastro tolto cambiaso De Sciglio Aleksandro UEA Kostic queste sono le nostre fasce e Danilo cioè tolto cambiaso Danilo De Sciglio Aleksandro Kostic queste sono le nostre fasce volete il 4-3 e chi lo fa l'esterno basso mia nonna buonanima dal cimitero mia nonna fa l'esterno basso a destra volete il 4-3-3 sappiate che devono giocare De Sciglio a destra e Aleksandro a sinistra o cambiato a destra e Aleksandro a sinistra oppure De Sciglio a destra e cambiato a sinistra non si sfugge non si sfugge il 4-3-3 esterno alto chi gioca a destra nel 3-3-3-3 chi gioca Vlaovic è sinistro Chiesa vuole giocare a centro-sinistra Hildiz gioca pure a centro-sinistra Ealing gioca a sinistra chi gioca a destra chi gioca abbiamo bisogno di esterni di esterni e poi sull'allenatore su quello che dovrebbe essere il prossimo allenatore Tiago Motta a me piace Tiago Motta lo vedo pragmatico con esperienza internazionale con personalità è uno che comunque ha giocato ad altissimi livelli però la storia di Tiago Motta è un po' la stessa storia della cessione di Vlaovic a Chiesa dell'anno scorso sì ma vogliamo cedere lì ma chi li compra ecco qua il contrario noi vogliamo Motta ma lui vuole venire ma perché parliamoci chiaro che succede calcio di rigore per il Venezuela mi sa vediamo un po' mi sa calcio di rigore per il Venezuela buongiorno ha fatto una cagata in vera e conta eh sì rigore per il Venezuela signori comunque il Venezuela è una buona squadra a livello giovanile ha fatto bene ultimamente mi sa che la cagata è venuta dalla costruzione dal basso voglio rivedere l'azione vediamo guardiamo il rigore e proseguo parata di Donnarumma parata di Donnarumma parata di Donnarumma un altro che voleva venire alla Juve non è stato preso ora capiamo perché vabbè dicevamo questo è un discorso che ho fatto più volte diciamo sull'allenatore ma lui vuol venire no perché vi spiego una cosa in una Juventus che magari si qualifica alla Champions in cui è stato dichiarato Urbi e Torbi noi in questi tre anni l'obiettivo deve essere qualificarci alla Champions Tiago Motta ci arriva col Bologna secondo voi lui viene alla Juventus giocherà comunque alla Champions secondo voi lui viene in una Juventus senza ambizioni senza ambizioni con i tifosi che lo massacrano se dovesse far male e in una squadra non competitiva tanto male resta a Bologna dove è servito rivenito amato non ha pressioni e tutto il resto non solo ma può aspettare occasioni migliori Barcellona Paris Saint Germain Inter dove ci ha giocato secondo voi se dovesse volerlo uno di queste tre squadre lui viene alla Juve secondo voi a me Tiago Motta piace ben inteso attenzione tuttavia credo che se dovesse andare via negri per come si stanno comportando questi sono capaci che prendano Rudy Garcia voi ridete voi ridete uno o Palladino o uno di questi qua siamo diventati una società ridicola veramente siamo oltre il ridicolo venda si levi dai coglioni se proprio si deve soffrire magari soffriamo per una ragione noi come gli altri noi come Commisso come Zank come Elliot come De Laurentiis come i Friedkin a questo punto se schifo deve essere magari sia schifo vero non schifo indotto chissà che cazzo ha patteggiato questo a giugno ma veramente mi viene veramente il vomito a pensare ci mette anche i soldi ma che poi ribadisco 700 milioni per lui per Exor sono una puttanata per una holding che ne fattura 38 all'anno 38 miliardi all'anno capite che cos'è non so se vi rendete conto cosa vuol dire fatto salvo uno stipendio di 1000 euro al mese fate un po' il conto voi fate un po' il conto voi fate un po' il conto voi cosa sono 30 euro nemmeno su uno stipendio fatto salvo un milione su uno stipendio di 1000 euro cosa sono 30 euro sono queste le proporzioni ma se volete vi faccio anche il calcolo se volete vi faccio anche il calcolo e faccio anche la proporzione no perché ero bravo in matematica non sembra ma ero bravino in matematica chiedo scusa ecco la calcolatrice è qui la proporzione è esattamente la seguente facciamo 38 sta a 1000 la proporzione è 38 sta a 1000 come 0,7 sta a x allora si fa 1000 per 0,7 che sarebbe 700 700 diviso 38 vedete riuscite a vedere quanto viene sullo stipendio di 1000 euro sono 18 euro 18 euro ergo 700 milioni di euro per exor sono come 18 euro per uno che prende 1000 euro al mese siamo a queste proporzioni qua cosa sono 18 e neanche un caffè al giorno solo io ho fatto il paragone con i frischi i croccantini il cane da portare a cagare a pisciare i frischi scostano molto di più spenderesti molto di più da monge da arcaplanet spenderesti molto di più evidentemente era un cane signore quello che vi dipingevo questo è un cane da capannone tipo guardiano di capannone che gli dai un po' di pane bagnato e due wirstel e l'hai soddisfatto questa è la juventus per il signore il cane signori piaccia o non piaccia 700 milioni di euro sono un'immensità per noi poveri comuni mortali per questo noccioline 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 exor noccioline exor un patrimonio di 28 miliardi di euro Todd Burley il patrone del Chelsea ne ha uno di 6 miliardi di dollari e ne ha speso quasi uno per fallire due stagioni al Chelsea fatevi una domanda datevi una risposta vi piace il vostro problema è allegri io voglio che lo mandano via così finalmente aprite quei fottuti occhi signori ma in che mani siamo ma in che mani siamo ma in che mani siamo in che mani siamo dico io voglio fare le nozze dei fichi secchi tanto vale lo dai a un fondo uno sceicco ma magari ce ne facciamo una ragione magari ce ne facciamo una ragione signori 18 euro al mese non costa manco un abbonamento ad azonte vi immaginate che cos'è no perché 18 euro su mille è l'esatta proporzione tra il fatturato di exor e quando è ricapitalizzato la juventus vi ho detto tutto iscrivetevi al canale che è veramente lo schifo ah più tardi parlo anche di inter lo farò in modo serio sul discorso oc3 e tutto il resto iscrivetevi al canale che cos'è che cos'è